No, ma come arriva nuda? Liliana! Mi ha chiamato, mi ha chiamato! Sto correndo! Ma no, nuda! Oh mamma mia! Ciao a tutti! Allora, andiamo direttamente in game, così iniziamo a giocare. Comunque, ciao a tutti! Ciao Erika! Ciao a tutti quanti! Oggi siamo con la legacy dei sette peccati capitali. Siamo ancora la prima generazione, ma la seconda generazione è nata. E qui il piccolo Vincent e c'è una novità, infatti ha un'amichetta, la figlia di Liliana, la stalker. La stalker, ebbene sì. Alla fine ci ha spedito una figlia. Lei è ancora incinta, però ha detto alla sua figlia, che è molto estroversa, molto socievole, ha detto Ma perché non vai a fare amicizia con il figlio di quel bel ragazzo laggiù? Allora, Liliana è disoccupata. Chi è questo? È disoccupata. Siamo senza soldi. Abbiamo soltanto 406 simoleon. Eccolo, il padre. Senti, tua moglie mi sta stalkerizzando. Io non volevo dirtelo, però mi sta stalkerizzando, eh. Te lo dico. Guarda lui che parla con lui come se nulla fosse. Poi, siccome l'aspirazione di lui l'abbiamo finita, però appunto è ancora giovane e adulto, ha sette giorni prima che diventa anziano, è adulto, le 14 giorni, e lui va bene, ma è cresciuto. L'abbiamo fatto crescere nella scorsa puntata. Allora, abilità, abilità. Cercasi gnam gnam, ho appena effettuato un ordine ingente da goffre di bab, ma sono fin troppo debole per il ritiro. Ho bisogno di qualcuno che si occupi del mio ordine e subito morirò di fame, letteralmente. Inoltre mi servono il ketchup, parecchio ketchup. A livello 1 di fotografia, dove... Oh, stupido o discreto. Allora, quello che ci pagano di più, questo. Non mi mangiare. Spedisce tesoro al cliente. Qualcosa di doppio, tipo questo. Olè, grande successo. Più 203 di mancia, abbiamo un sacco di soldi. Allora, per festeggiare, ce ne andiamo a mangiare fuori con tutta la famiglia. Sì, spendiamo soldi. Poi, inoltre, gli ho messo una nuova aspirazione, visto che lui già l'aveva completata. Un'aspirazione che io non faccio mai. Quindi, perché dovrei fare questa aspirazione? È bruttissima. Però, sono curiosa di vedere, appunto, com'è. E parlo dell'aspirazione favolosamente lurido, che è quella che esce con il kit della polvere. Allora, dice... Lascia fuori il cibo ad avariarsi. Fai che tre oggetti da bagno e da cucina si sporchino. Fai che almeno un piano di casa tua diventi sporco. Massimizza il livello del bisogno di divertimento di Jacob, dove il pavimento è polveroso, sporco o lurido. Cioè, oh mamma mia. Ho appena scoperto che la mia stalker, con cui non sono andato a letto, eh. No, assolutamente. Figurati se sono andato a letto con quella. È amica di nostro figlio. Assolutamente sì. Che brutte cose che ho scoperto. Ma devo mettere pure la polvere. Attiva la polvere. Eh, recati in un ambiente sporco. Jacob vuole ampliare i propri orizzonti, dando uno sguardo ad abitazioni nuove e arredate con dubbio gusto. Trova oggetto a rifiuti in una stanza finché non frutta uno stato umorale ambientale negativo grande. E appunto, questo vuole sporcare tutto. Per quello io ho messo questa aspirazione, perché lui vuole proprio sporcare tutto quanto. Più sporco è, meglio è. Com'è felice Nalani? Non lo so se sarai molto felice dopo quello che... Dopo l'aspirazione che andremo a fare, eh. Ho i miei dubbi. Allora, per fare la tua aspirazione, che dobbiamo fare? Fammi vedere un po'. Lascia fuori il cibo ad avvariarsi. Mogliettina, vero che prepari qualcosa che gli doi lasciare fuori ad avvariarsi? Ah, c'è la torta qua. E' apposto, c'è pure questa. Ok, poi... Fai che i tre oggetti da bagno e da cucina si sporchino. Trascura la cucina e i bagni e li pulirai domani. A parte che stai facendo un lago a terra. Cioè, giusto per dirtelo. Uh, me l'hai proprio rotto. No, Liliana. Ma fai quello che vuoi. Vabbè, me l'hai proprio rotto. Poi, fai che almeno un piano di casa tua diventi sporco. Crea accumuli di sporcizia, procrastina. La pulizia fa che la polvere continua ad accumularsi. Richiede che la polvere sia attivata. Ok, io l'ho attivata. Massimizza il livello del bisogno di divertimento di Jacob dove il pavimento è polveroso, sporco o lurido. Gli autentici maestri della procrastinazione non si rimettono a evitare il compito da svolgere. Lo sostituiscono con qualcosa di divertente e molto. Videogiocca, festeggia, fai qualsiasi cosa pur di non fare i conti con il disordine di Laganta a casa tua. Ok, perfetto. Una bella lezione di yoga. Non pensare che a casa tua in questo momento sta regnando il disastro più totale. Sta scambiando biglietti segreti per giorno dell'amore. Per la festività giorno dell'amore Vincent decide di preparare per il suo amore un biglietto completo di cuori ricavati da scovolini, dinosauri e fiori con lustrini. In fondo chi non sa chi non si lascerebbe sedurre da un dinosauro Vincent deve solo decidere se lasciarsi sfuggire di essere l'autore di biglietto e depositarlo segretamente nella casella del suo amore. Ma consegna spavaldamente. Tu sei l'orgoglio. Consegna spavaldamente. L'amore di Vincent non ha neppure fatto caso alla sua esistenza e questa era un'opportunità da non sprecare. Vincent evita il casellario optando per una consegna a mano ma purtroppo non riesce a trovare il suo amore al parco gioco. Quando poi Vincent decide di rinunciare e di tornare al casellario la cartella del suo amore è sparita. L'opportunità è ormai sfumata. No Vincent! Allora, voi due vi volete divertire ma volete anche mangiare. È il giorno dell'amore e portala a mangiare fuori. Chiedile proprio un appuntamento però. C'è una base di pesce? No, sono tritoni e sirena. Non possono. Prendetevi il vostro banchetto di verdure dell'isola. Ok, perfetto. Le dobbiamo regalare dei fiori. Manda un bacio. Allora, fai conversazioni profonde. Ok, perfetto. Loro l'abbiamo fatto. Dobbiamo aspettare il cibo che non arriverà mai. Come sempre. Non ho capito perché arriva in ritardo. Sta cuoca. Vuoi andare a cucinare? Ti dà una mossa? Ok. Sa di limone. Come fa a sapere di limone? Vabbè, se lo dice lui ci crediamo. Alla fine lo sta mangiando. Ma come non gradisci la forma fisica? Ma non gradisci niente, Nalani. Che ti sta succedendo? Niente, Nalani si sta stufando della vita. Ha più voglia di fare niente. È arrabbiatista a perdere il controllo. Sì, ma lo stai proprio perdendo il controllo, ragazza mia. E io te lo dico. Da quando ha visto sta bambina lei è diventata super nervosa. E secondo me sesto senso femminile è in atto. Secondo me. No, ma come arriva nuda? Liliana! Mi ha chiamato, mi ha chiamato. Sto correndo. Ma no, nuda. Mamma mia. Mai chiamare questa donna puoi dare l'effetto sbagliato. Cioè, t'ho chiamato per farti conoscere mia moglie. Ma dove stai andando? Non per fare quello che pensi tu. Non la seguire. La segui pure. Ma quasi quasi. Sai che ho cambiato idea. No, ce la faccio. Jacob! Per piacere, controllati. E quindi la cara Liliana viene qui a romperci le scatole. La vendetta va servita a fredda. Ecco, guarda. Già la faccia di Nalani. Che cosa stai dicendo? Conosci il mio marito? No, al parco, al parco. C'è più gente. No, è tutta... Sono gente sporche. E non ti sei fatta la doccia prima. Sì, ma continua a parlare. Lamentati dei problemi, spettegola. Perché praticamente Liliana che cosa fa? Lei racconta che ha avuto una relazione con il suo marito. Dice, ma... Per caso lo sai che io e il tuo marito ci conosciamo? Come vi conoscete? Che sei a di... Non mi ha mai detto niente. Eh sì, abbiamo avuto una... Una relazione, sai... Extraconiugale. Da parte di entrambi. Anche se non è vero. Lui non era sposato. Ma Liliana... Ma... Da parte di entrambi. E... E niente. Cioè, siccome io l'ho confessato a mio marito, allora ci tenevo a dirtelo pure a te, no? Volevo parlarne per evitare di essere appunto in cattivi rapporti, queste cose qua. Ecco, lei è uscita una cosa evasiva. Cavolo. No, io non voglio essere sposata con uno così. Capisco i tuoi timori, Nalani. E presto scambierò due chiacchiere con Jacob. Ma dopo quello che mi hai detto, mentirei se dicessi che avvicinarlo non mi crea un po' di nervosismo. Lei che sta cercando di fare la mica. No, adoro. Lei che cerca di fare la mica e lei... Non ti credo. Pugnalata alle spalle. No, vabbè, adoro. Ha capito. Nalani ha capito che la sta prendendo in giro. Quindi mo' si arrabbia. Si arrabbia. Mo' si. Disputa. Falli me... Oh, nel frattempo Jacob è tornato dal lavoro. Un fallimento. Dice questa non è giornata. Ho paura che accade qualcosa di brutto. Aspetta, Jacobo, mica è finita qua. Ce n'è pure per te, non ti preoccupare. Mo' arriviamo pure da te. Falla lasciare con suo marito, assolutamente. Lei gli va a raccontare tutto al marito pure. Vediamo che succede facendo separa da... Devi stare lontano dal mio marito, altrimenti te la farò pagare. I figli in tutto questo che stanno giocando insieme. Non lo so, non l'ho ancora... Non l'ho ancora provato. Non so come funziona. Quindi devo vedere un po' Cattus. Bellissima la faccia di... Di Nalani. Ordina a Jacobo di pulire. Questa mi sa che è la punizione più brutta che lui potesse fare. Infatti è l'uscita la spugna. Vai a pulire, muoviti, diglielo. Ma per punizione pulisci tutta casa. Come minimo. Senso di sofferenza, rattristata e deludente sapere di una frattura in una relazione un tempo solida. Nalani vorrebbe che le cose andassero diversamente. Si domanda se Jacob è sparito. Se Jacob è sparito. Se Jacob la pensi allo stesso modo. Io ce l'ho un'idea di come la pensa Jacob. Ma voglio vedere se funziona oppure no. Guarda sta pulendo. No, aspettate, devo fare una foto. Questo è un momento epico. Con questa faccia poi è epico il momento. Ti rende conto che mi ha messo a pulire. No, Liliana. Ho un regalo speciale per te. Allora, c'è sua moglie a casa. Io te lo dico. Non è che hai scelto il momento proprio perfetto. In questo momento. L'ho invitata ad entrare? No, col cavolo. Ci uccide. Andiamo ad aprire la porta. Liliana, non è un buon momento. Non è un buon momento non entrare. Non andare lì. Oh, mamma mia. Io me ne vado. Non l'ho fatto entrare io. È stato lui. È stato Vincent. Vatti a fare una notata. Va, scappa che è meglio. Scappa, fidati che qua ti distrugge. Oggi. L'hai pure fatta entrare in casa. Lotta. Tu, in casa mia. Devi uscire da casa mia. Oh, mamma mia. Oh, stavolta ho vinto Liliana. Oh, mamma mia. Ce la posso fare così. Allora, che è uscito sofferente. Liliana si sente offesa da Nalani ed essere in sua presenza le ricorderà quel dolore. Nalani e Liliana hanno alcune questioni in sospeso. Il conflitto è risolto. Le tensioni sono alle stelle. Almeno dal punto di vista di Nalani. Liliana, ci continua a provarci. No, Liliana, smettila. Smettila veramente. Cioè, sto cercando di recuperare il rapporto con mia moglie. Tu sei sempre qua per le scatole. No, no, mamma, ti lasci con tua moglie. Te lo dico io. No, 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 no. Non me l'aspettavo che lei scoprisse tutto. Queste cose qua. Accusa di avere troppa fretta. Dattina calmata, però. Ammira il coraggio di che. Lei bella sta qui in mezzo a godersi la scena. Ora devo proprio andare. Maledetta. Ciao Nalani, che succede? Devo dire una cosa su tua moglie. Come faccio a fargliela lasciare? Separa da Liliana. La devi mollare. Come no? Ma perché? Ma perché vieni qui a dirvi che cosa devo fare con mia moglie? In effetti. Non abbiamo bisogno del tuo parere sulla nostra relazione. Cazzo. Ma qua mi devi ascoltare. Ti supplico, ti imploro, mi devi ascoltare. La devi mollare a quella. Ho fatto arrabbiare Maqua. Scusati. Ancora, ancora, ancora. La devi lasciare. Di che stai parlando? Stiamo innamorati. Ma 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 ma. Ma che c'è la... Ma troppo siete tutti i piedi diamanti in questo gioco, allora. Cioè. Cioè, siamo proprio... Incasiratissimi qua. Allora lui c'ha l'amante. L'altro c'ha l'amante. Che me ne frega se mia moglie c'ha l'amante. C'ho l'amante pure io. È lui. No, vabbè. Dobbiamo cambiare città. Questa... Questa sulari. È un po' troppo libera. Come posso? Anche se... Lo so che sei molto arrabbiata in questo momento. Che vuoi farla finita su questa storia. Ma ci tocca tornare a lavorare. Come cuoca. Eh... Sì. Ci tocca tornare al lavoro. Mi dispiace. Tu marito qua non è affidabile. Guarda. Guarda quanto è affidabile tuo marito. Affidabilissimo. Prima ho capito che stavi inseguendo una donna nuda. Ma ma pure gli uomini. Ma poi camminando così si è ridicolo. A me non fosse una bella donna. Torna a casa. Ti prego. Smettila. Questo è il partito. Mai avuto una casa così sporca in tutto The Sims. Mai. Cioè proprio uno si deve impegnare per tenerla sporca. È impossibile. Allora vuoi mangiare? Vai a mangiare. Auguri Iacob. Lei se ne va. Manco gli fai gli auguri. Ah no. Forse glieli fai gli auguri. Dai. Almeno per il tuo compleanno te li faccio gli auguri. Anche se ti sei comportato male. Siccome Nalani e Iacob non stanno andando molto d'accordo ultimamente. Perché litigano sempre. Lei sta sempre nervosa. Mai è dovuta tornare al lavoro. O perché non posso pagare le bollette. Siamo senza soldi. E la luce è staccata in casa. Quindi l'ho dovuta rimandare al lavoro per pagare le bollette. E io volevo. Volevo farlo. Ah perché la cosa bella. Liliana è passata. Allora lui ha chiamato Liliana. Liliana è venuta nuda. È venuta nuda. Ho detto Liliana. Ho capito che ti ha chiamato Iacob. Ma vieni vestita. Non è che ti ha chiamato per fare cose sconce. Che a me appari così. E poi che è successo? Quella è apparsa nuda. Si è messa a correre nuda. Sono deficiente. Con sicogli occhi a palla. Che ci andava dietro. Per tutto il percorso. Da solo. Da solo. E io no. Vabbè. Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Cioè ero scioccata a vedere questo. Che ci correva dietro. Mentre la moglie arrabbiata stava in casa. E quello andava dietro Liliana. E allora poi ho detto. Vabbè. Siccome ti è partito l'ormone. Vedendo Liliana nuda. Magari voglia di farci nuovo fichi. Fichi. No. Non ci sto riuscendo. Non ci sto riuscendo. Non ci sto riuscendo a fargli fare i fichi fichi. E a farli scoprire da. Da cosa. Da. Da. Dalla moglie. Non ci sto riuscendo. Perché. Prima flirta lei. E lo rifiuta Jacob. Poi. Poi flirta Jacob. E lo rifiuta Liliana. Cioè. Ma mettetevi d'accordo. Capito che siete due psicopatici. Che se state insieme. Per quello siete così compatibili. Però almeno mettetevi d'accordo. Non è che prima flirta uno. E poi tu lo rifiuti. Poi fate la vendetta. Che la ripicca. Che pure quell'altro te rifiuta. No. Veramente. Ma questi. Hanno problemi seri. Ma tutte e due. Ma stanno bene insieme. Però. E. E niente. Poi si è venuta qua a caccia di tesori. Ma non sto trovando niente. Che tristezza. È molto triste Jacob. Perché non. Ah. Fermo. Questa è Liliana. Cioè. Mi stavi spiando. No. Per capire. Perché guarda. Sei proprio. Guarda. La boha sta lì. Dove sta. Ecco lì. Io stavo lì. E tu stavi qua. Spiegami un po'. Questa cosa. Cara. Spiegamela. Cioè. Lo vedi? C'è un problema. Proprio qua. Di fondo. Tra questi. Ah. E' mo' che l'abbiamo beccata. Se ne sta andando. No. Si è rotta pure la doccia. Il bagno è bellissimo. Andiamo lì qua va. Vergogna per le faccende domestiche. Nalani ha ricevuto l'ordine di pulire piuttosto brutalmente. Come se a casa non facesse la propria parte di pulizia. La fa e come. Tant'è che proprio ieri ha pulito. Là. Il. Vabbè. Non importa. Tenera. Povera piccola. Ma non l'ascoltare a quello. Nalani. Non l'ascoltare. Pulisci tutti i giorni. Non l'appensare proprio. Accarezza. Vai. Aspetta che ti faccio la foto però. Ma quanto soppellini. Questa è l'accidia. Ah il nome. Ditemi un nome. Datemi un nome per i batuffoli di polvere. Vai. 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 Voglio tre nomi. Ma come cacchino. Il sassetto mi piace. Grazie. Graziele. Graziano. Spolveri. Adoro spolverino. Allora. Spolverino. Poi mi piaceva pure. Sozzetto. E l'ultimo. Cenerino. Dai. Cenerino. Abbiamo i nostri animali domestici qua. No. Ho sbagliato. Nutri con la polvere. Abbiamo i nostri animali domestici. Amicizia tramontata. Per sentirsi colpevole in presenza di qualcuno nei paraggi. Si sente colpevole Jacob. Hai capito? Sei colpevole tu? Hai ammesso le tue colpe di correre dietro le ragazze nude? Basta Jacob. Per oggi abbiamo dato veramente. Lui sta malissimo. Lui è arrabbiatissimo. Dice che schifo. Che schifo di casa mi state facendo vivere. Ha ragione eh. Quando ha ragione ha ragione. Te lo dico. E lei pure. Non ne posso più. Guarda. Stai oltrepassando veramente. Aiuto. Stai oltrepassando veramente il limite. Sappilo. Stai oltrepassando veramente veramente il limite. Ok dai. Mi ho fatto un po' di cose. Questo è di nuovo malato. Io non ho capito se si sta ammalando per la polvere. O cosa. Non lo so. Non l'ho capito sinceramente. Perché sta continuamente male. Ok. Perfetto. Questo è il link. Questo qua che vi ho appena linkato Dada. Questo è il link per la premiere. Cliccatelo. Ci vediamo appunto su YouTube. Da lei in premiere. Io chiudo la live. Vi ringrazio a tutti quanti per l'accompagnia. Per essere stati qui con me oggi. Se volete passare ci vediamo domani con Awards Legacy. Se no ci vediamo lunedì. Lunedì dove faremo appunto dei giochi con la chat. Queste cose qua. Ma comunque voi seguitemi su Instagram. Che vi aggiorno ogni volta con il programma della settimana. Ciao Micro. Ciao Kevin. Ciao a tutti. Ciao a tutti.